Spesso ci si chiede se è possibile in una casa unire due o più stili. Questo quindi sarà l'argomento del video di oggi. Ciao, se mi segui da un po' avrai notato come in questo video lo sfondo sia decisamente diverso dagli sfondi vesti finora. Ebbene, ho deciso di togliere il muro bianco che avevo dietro perché ho notato che dava una certa sensazione di freddezza e non vorrei che questo potesse creare una distanza tra te e me, che è proprio l'ultima cosa che vorrei. E allora ho deciso di toglierlo e di portarti a casa mia, nella fattispecie nel mio studio, anche perché tu possa conoscere un po' meglio chi sono. Ottimo, fatto questa doverosa premessa, torniamo all'argomento del video. E' possibile o no unire due o più stili in una casa? Molte persone pensano erroneamente che la propria abitazione possa contenere un unico stile. Il ragionamento in effetti sembra avere senso se ci pensi un secondo, insomma, com'è possibile unire per esempio uno stile moderno ad uno più rustico? Il rischio obiettivamente è quello di creare un vero e proprio caos. Tutto corretto. Ma se ti dicessi che le cose non stanno proprio così, sapevi che invece è possibile mischiare più stili? Ti dirò di più. Molto spesso è una scelta quasi obbligata. E sì, per creare uno spazio in cui vivere che ti faccia sentire a casa e accolta. Un luogo nel quale non vedi l'ora di rientrare. Perché la tua abitazione ti faccia sentire a casa e accolta non è sufficiente inserire qualche mobile qua e là. E' necessario piuttosto creare un ambiente che rispecchi la tua personalità. Pensa per esempio come sarebbe bello poter pranzare insieme alla tua famiglia in una domenica primaverile avvolta da un'atmosfera che però senti tua. O ancora, come in questo periodo, spendere un pigro pomeriggio di una domenica uggiosa nel tuo salotto e percepire che è esattamente lì che vorresti essere. Una cosa che spesso viene sottovalutata è che la nostra personalità non è assolutamente univoca. In noi risiedono più aspetti e più sfaccettature. Per questo motivo talvolta non siamo attratti da un unico stile ma da più stili e magari a volte molto diversi fra loro. E' normale e per dare vita alla casa dei tuoi sogni devi assolutamente tenerne conto. Per me è fondamentale costruire un ambiente che non sia soltanto esteticamente gradevole ma che rispecchi la personalità di una persona. Così buona parte dei primi appuntamenti con le mie clienti sono una lunghissima chiacchierata per comprendere la persona che ho davanti. E sempre più spesso capisco che devo riuscire a raccontare più sfaccettature di una sola personalità. E come si fa? E' facile, basta mischiare gli stili. Fai attenzione però, perché è molto semplice finire col creare un putpourri non ben definito e che quindi ti farà sentire solo confusa e non veramente a casa. La parola chiave per mixare gli stili è equilibrio. E' necessario trovare un filo conduttore fra i vari stili e gli ambienti della casa e per farlo ci sono due modi. Uno è il colore. Avevi idea di quanto il colore possa mettere in connessione situazioni che sarebbero altrimenti molto differenti tra loro? Arredamenti diversi possono convivere perfettamente se accumulati da un unico colore o dalle diverse nuance di questo stesso colore. Potrai poi spezzare con piccoli tocchi di colore accento. Puoi sfruttare tessili come cuscini, senza mai esagerare perché è pur sempre un ambiente con più stili. Un altro metodo per far coesistere due stili diversi è quello dell'accostamento. Ad uno stile principale introdotto nella maggior parte dell'arredamento di casa tua, potrai accostare elementi di stacco con uno stile diverso in presenza minore. Adesso ti faccio un esempio così è molto chiaro. Diciamo che hai scelto uno stile moderno per casa tua, ma che ti sei innamorata di un grande tavolo antico in legno oppure che ti arriva per esempio dalla nonna e quindi ci sei molto affezionato. No, non devi rinunciarci, puoi inserirlo e accompagnarlo da delle sedie moderne. Lo avresti mai detto? No, non devi mettere da parte neanche i ricordi di famiglia o dei tuoi viaggi, possono entrare a far parte dei tuoi ambienti. Sempre a patto che ci sia un tratto d'unione nei vari accostamenti. In particolare, quando giochi con più stili diversi, è estremamente facile cadere in errore e ritrovarsi con un gran misto indefinito di situazione. E che gran confusione ne verrebbe fuori, no? Sono necessari degli interventi mirati e delicati. Hai bisogno di una mano per comprendere come rendere casa tua più accogliente? Ti basta mandarmi un messaggio, trovi i miei recapiti nella descrizione. Io sono a tua disposizione. Insieme potremo creare un piccolo mondo perfetto nel quale non vedrai l'ora di rientrare ogni volta che dovrai uscire. Se il contenuto di questo video ti è piaciuto, fammelo sapere con un like o con un commento. A presto!